Ed ecco Maurizio Morelli Allora Maurizio, ci abbiamo qua davanti degli occhiali li vediamo sono degli occhiali da sport molto usati e ci hanno chiesto nei commenti di spiegare come si cambiano le lenti quindi noi leggiamo i vostri commenti e quello che possiamo lo esaudiamo Maurizio, spiegaci come si cambiano le lenti a questi occhiali Sì, questo è un modello di occhiali che sono tra i più usati e i più famosi al mondo perché sono gli americani Oakland Radar per me sono i migliori poi quello il giudizio è personale ora facciamo vedere come andare a cambiare una lente invernale come questa che ho adesso, gialla che serve per le giornate di nebbia o dentro i boschi comunque quelle giornate scure ci andiamo a mettere una lente estiva ok, quindi la gialla la usiamo quindi la gialla la useremo per la nebbia per la nebbia e quest'altra invece per il sole per l'estate allora per prima cosa andiamo a sganciare i lati così, quindi allarghi in questo modo veramente, quindi solo a pressione sì non si rompono gli occhiali perché sono fatti apposta uno può dare anche più forte dopodiché andiamo a fare una pressione dai che la prendo qui sotto in maniera che questo esce ok, allora così va ok, ci siamo? sì questo è uscito dopodiché il nasello lo spingiamo lo spingiamo lo spingiamo così lo spingiamo in maniera che questo esce allora ok, lo spingiamo facilissimo adesso io perché l'ho fatto vedere appoggiato se ti appoggi sul tavolino fai si fa prima e faccio vedere come lo metti vedi come è fatto? qui c'è anche il nasello che si può cambiare per metterlo il modello più lungo per la XL un tipo di lente un po' più più lunga più particolare ecco c'è scritto proprio ma di nusa vai 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 con la lente andiamo a mettere ora facciamo lì al contrario infiliamo prima il nasello allora appoggiamo così poi mettiamo il nasello qui sul lato abbiamo bisogno di spinto sul lato eh aspetta che l'ha presa male bisogna fare attenzione altrimenti si fa l'errore che ho fatto io prima bisogna proprio ecco adesso l'ha presa bene inserire proprio il nasello dopodiché i lati questo è un lato questo è l'altro resta entrata ok mettete un po' così abbiamo le messi già sono pronti si così sono pronti ok quindi uno non ci vuole tanto fallo in tempo reale via togli e metti senza tentare da spiegazione vediamo un po' quanto ci metteresti se tu stai tu stai andando una giornata come oggi te sole però entri dentro un bosco entri dentro un bosco diceva no guarda voglio cambiare l'occhiale perché o sennò comincia a fa sera è perché mica c'è mica c'è bisogno eccolo qua tolto questo metti l'altro è perché eh sì perché tu puoi uscire la mattina con gli occhiali e che da sole e avrai bisogno la sera di vederci uguale ma essere riparato soprattutto nelle discese al ritorno senza spiegazioni ci vuole un attimo perfetto noi perdiamo tempo per spiegare benissimo va bene allora abbiamo accontentato anche questo commento quindi se avete altre domande da fare sulla bicicletta quello che possiamo noi facciamo il tutorial ciao ragazzi grazie grazie Grazie.